Due minuti dopo le nove e allora vogliamo adesso aprire lo spazio dedicato ai nostri ospiti, collegamenti Skype e telefonici, perché adesso parleremo di un'interessante esperienza che arriva dalla provincia di Como, da Maccio, a Kharkiv, città appunto nel Milino dei Russi, cibo, giochi, vestiti e sorrisi tra accoglienza e fraternità. A raccontarci questa esperienza, un volontario che organizza aiuti umanitari per l'Ucraina, Gian Battista Mosa, coordinatore iniziative pro-Ucraina. Buongiorno, chiedo alla regia se l'abbiamo già in collegamento. Ecco, ha chiuso, abbiamo probabilmente qualche piccolo problema, però abbiamo tutto il tempo di organizzarci. Intanto vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Andiamo in Gran Bretagna perché è in programma il primo viaggio internazionale da quando sono diventati principe e principessa del Galles per William e Kate che visiteranno questa settimana gli Stati Uniti per ricevere un premio ambientale, quindi una visita negli Stati Uniti per un premio sul cambiamento climatico. La coppia reale porterà il proprio sostegno alla ricerca di nuovi modi per affrontare il cambiamento climatico partecipando alla seconda edizione del premio Headshot a Boston. Il premio è stato lanciato dal principe William lo scorso anno. Il viaggio a Boston sarà la prima grande apparizione da quando è diventato principe di Galles dopo la morte della regina. La cerimonia parteciperanno diversi artisti, tra cui Annie Lennox e altri attivisti e ambientalisti. E siamo collegati, appunto come vi dicevo, con Gian Battista Mosa, coordinatore iniziative pro-Ucraina. Buongiorno, Gian Battista, benvenuto. Buongiorno. Allora, ti trovi, lo dico subito, nella chiesetta di Maccio di Villa Guardia, dove state preparando i beni che porterete in Ucraina. È così? Eh, purtroppo forse abbiamo qualche problema di collegamento, perché appunto... Sì, sì, risentiamo. Ah, eccoci, eccoci. Vi dicevo, siete nella chiesetta di Maccio di Villa Guardia, state preparando i beni da portare in Ucraina. Sì, questa è la chiesetta di Maccio che utilizziamo come magazzino, utilizziamo come magazzino dove conferiamo tutti i beni che più o meno una volta al mese portiamo in Ucraina. Noi abbiamo appena fatto un viaggio, qui con me ci sono i volontari che sono rientrati, sono appena rientrati a qualche di una settimana fa da Kharkiv, e adesso stiamo ripartendo con un nuovo conferimento, cercando ancora aiuti, cercando di... chiedendo ancora cibo, medicinali, vestiti caldi, che pensiamo di portare col prossimo viaggio a gennaio del 2023. Ecco, come vedete questa è una chiesetta che è una chiesetta comunque consacrata della nostra parrocchia, e in questa chiesetta noi da ormai da marzo di quest'anno stiamo facendo arrivare tutto quello che serve per l'Ucraina. Qui adesso abbiamo ancora parecchie scatole di vestite, tra l'altro vestiti anche donati da Decathlon Italia, che abbiamo già portato col viaggio di novembre, ma abbiamo ancora parecchie scatoloni, non so se li vedete, di farina, che ci ha donato un molino, e insieme a questi scatoloni, anche insieme ai sacchi di farina, abbiamo ancora parecchi scatoloni che vedete in fondo di vestiti caldi. Insomma, adesso stiamo cercando di ripartire con la raccolta per riportare, come dicevo prima, tutti questi beni a Kharkiv a gennaio. Noi andando a Kharkiv andiamo su due chiese, la chiesa di San Nicola a Taumaturgo, il cui vescovo è Bastille di Tucciapetz, e la chiesa di San Demetrio, il cui vescovo è Igor Isicenco. Possiamo fare un tipo di trasporto di questo tipo puntuale, diretto alle persone, tramite il nostro contatto e mediatore, che si chiama Padre Igor Boico di Leopoli, col quale da marzo facciamo questi viaggi. Noi partiamo da Maccio, quindi da Como, andiamo a Leopoli con i nostri furgoni, da qui ci accompagna Padre Igor, e andiamo direttamente a Kharkiv, dove ormai abbiamo tante persone che ci conoscono, grazie a queste due chiese, e grazie a queste persone, ai nostri contatti con i nostri volontari, possiamo andare a distribuire a più di 1500 persone alla volta, andando addirittura nei bunker, andando anche in strada. Quindi per noi questa è un'attività di solidarietà molto importante e molto capillare. Ecco, in attesa di tornare nel mese di gennaio, come stavi appunto raccontando Gian Battista, si è stato chiarissimo, ci hai raccontato per filo e per segno come avviene, e soprattutto appunto come è nato questo ponte per Kharkiv. Ci puoi raccontare che atmosfera si vive, che aria si respira? Allora, io sono andato ad agosto, io preferirei dare la parola a questo punto ai volontari che sono appena rientrati. Con me c'è Vito Cantore e Donato. Ecco, magari cominciamo con Donato. Buongiorno a tutti. Niente, l'aria che si respira lì è tremenda, ossia hanno poco e niente. Ciò che riusciamo a portare, loro sono grati di tutto, ringraziano, insomma non hanno né acqua né corrente, non c'è riscaldamento, gas. È una situazione un po' drastica, diciamo. La gente si barcamina come può, vive di quel poco che riusciamo a raccogliere noi e che portiamo lì ogni mese, non dico con cadenze regolari, però se c'è il materiale si riesce a portare. Se non c'è, si aspetta quando si riesce a riempire il magazzino e fare il volume per portare via la roba. La gente lì che ci aspetta ogni volta che andiamo lì a braccia aperte e ringrazia anche solamente con un tozzo di pane o una brioche, sono lì che, ripeto, non hanno proprio niente. I bambini sono la cosa più bella, che arrivi lì, ti circondano e insomma sono messi male. Vedendo le immagini di quello che avete raccolto, appunto, degli scatoloni che sono nella chiesa di Maccio, immagino che la città di Maccio, ma la provincia comasca, abbia risposto molto bene, sia generosa, perché quello che raccogliete è cibo, cibo per bambini, igiene della persona, farmaci. Quindi immagino che i vostri compaesani, concittadini abbiano risposto immediatamente alla vostra chiamata. Sì, sicuramente, sia a livello parrocchiale, però diciamo che abbiamo avuto aiuti anche sostanziosi dalla Caritas Giocesana di Como, che ci sostiene sia tramite aiuto al carburante, ma ci sostiene anche con donazioni con le quali noi possiamo comprare il cibo, ad esempio. Oltre a quello abbiamo anche diversi donatori. Io prima citavo Decatone Italia, ci ha dato mille magliette termiche, l'azienda Fumagalli qui di Tavernerio, 500 kg di Salumi. Ci sono tantissimi donatori che, tantissimi, tanti donatori, che grazie comunque un po' al nostro appello ci danno una mano. Ecco, e noi sicuramente terremo i fari puntati su questo progetto, appunto, della città di Maccio, quindi magari riusciamo a sentirci prima di gennaio, prima che partiate o anche dopo il vostro rientro, perché è sempre importante, come dire, mantenere alta l'attenzione. Grazie Gian Battista Mosa per essere stato con noi, grazie a tutti quanti i volontari, quindi grazie di cuore per quello che fate. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. A risentirci e allora lasciamo Maccio, appunto, in provincia di Como.